L'edicola votiva di Diego Armando Maradona esiste davvero, è in un bar vicino Piazzetta Nilo all'inizio di Via Tribunali, è un luogo magico frequentato con affetto e divertimento Da moltissima tifoseria e anche dai non tifosi, un edicola votiva in tutto e per tutto uguale a quella dei Santi Che migliaia abbiamo nelle varie strade e vicoli della città, con al centro una meravigliosa reliquia Che è un capello, un capello di Maradona che è stato prelevato da un pannetto poggiadesta di un aereo dell'Italia Da un tifoso che viaggiava dietro di lui Io ho voluto raccontarla come lo racconterebbe una guida turistica Quindi nel vero modo in cui va raccontato un luogo del genere Con tutto l'accorato sentimento religioso che a volte hanno i tifosi Mi è sembrato divertente raccontarla in questa maniera Mi è sembrato divertente raccontarla in questa maniera Mi è sembrato divertente raccontarla in questa maniera